Un saluto affettuoso a tutti voi, una nuova nata in casa Maggi Cucari. Vi ricordate la quadrottina in terracotta? Ora l'hanno fatta un altro materiale, si chiama aria, tanto che è leggera, perché è fatta con una lavorazione particolare. La chiude il coperchio quadrato 22. Si arriva a cucinare per due o tre persone. Io questa sera faccio cucina i piselli. Ho messo olio, cipolla, piselli, soppressata, il sale. Ora metto un po' d'acqua, quanto basta per cucinarla con questa stessa acqua. Ok. La porto sul gas. Vedete, è leggera. Questa è proprio un gioiellino. Antiaderente al massimo. Nulla attacca, si può cucinare di tutto. Ok. Questa è la prima cottura che faccio. Infatti mi è arrivata ieri. Ieri. Ok. Poi farò la foto, piatto finito.